Siamo di nuovo alla Libecciata, la stagione è giusta, siamo con il vento peggiore, però quello più sentito da noi di Vornese, perché ci appassiona l'increstamento delle onde, questo vento rigido, abbiamo un paio di navi in rada come vedete, ma non è che ci sia un grasso movimento, proprio perché è la stagione della tranquillità, stiamo in carico, come si vede anche la direzione della nave che è parcheggiata indica tutto il movimento praticamente dell'Ibeccio, gabbiani per aria a fronte, comunque è bello, è bello, è meraviglioso, abbiamo il mare, tanti amano perché hanno magari i regagnoli, hanno i viottolini, abbiamo i piccoli ri che scolgono, noi abbiamo l'immensità, l'immensità del mare. vi saluto cari amici, in antepondo al mare e con una buona giornata, capace, collaborante, realizzante, un saluto da Sandro.